Sull'amore, non siete i primi, negli ultimi, a essere stati innamorati nella vita. Cioè, 5.000 anni di letteratura ci vengono incontro, ci dando una mano, quando parliamo d'amore. I poeti che sono? Sono persone esattamente come noi, che provavano a descrivere questa cosa forte, questa cosa strana, con altre parole. Esattamente quello che stiamo cercando di fare noi adesso. Cosa provate voi davvero quando dite di amare? Se ci pensate bene, in realtà provate una serie di sentimenti, diversi. Che è? Sto dicendo cose assurde. Nel senso che magari rabbia, rancore, se ci pensate, invidia. Sono tutte cose che vi fanno capire che siete innamorati. Vai, fatelo girare. La poesia è una cosa molto, molto concreta, molto... Tu amore? Vai. Vediamo un po' che cosa avete partorito. Allora, quando amo sto sempre incazzato. Mi fa ridere che hanno detto incazzato. Ho la smania, faccio cose assurde, tipo mi scordo tutto. Come voi, quando mi interro. Sono tutti innamorati. Per fortuna non ho amato mai. L'amore fa schifo, addirittura. Non è mai alla pari, è sempre sopraffazione. No, non è mai alla pari, è sempre sopraffazione. Anche a po' che cosa.